Regà, vediamo un attimo adesso a quanti siamo Era a 998 prima Vediamo un attimo Ce l'abbiamo fatta, cazzo Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Grazie a tutti, regà Vi amo, vi amo Grazie, 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 grazie Assai infinitamente a tutti quanti Vi ringrazio dal primo all'ultimo Dai, regà, dai, regà che puntiamo ai 10.000 euro Vogliamo un altro zero Stai mozzato Ebbene, sì, ragazzi Siamo arrivati a 1000 iscritti Un piccolissimo traguardo Che però per me è veramente molto importante Quindi prima di incominciare con il video Ci tengo innanzitutto a ringraziare tutti quanti voi Diciamo che sono veramente, come si può notare dalla faccia Veramente contento per questo traguardo raggiunto Perché diciamo che fin da piccolino, tra virgolette Avevo questo sogno di aggiungere i 1000 iscritti su YouTube Ma non raggiungere i 1000 iscritti su YouTube Per poi guadagnare Oppure per farmi conoscere Ma bensì volevo arrivare a 1000 iscritti Portando la mia passione Qui sopra appunto al mio canale Ovvero la mia passione che sarebbe la magia E non solo E perché dico non solo? Perché 1000 iscritti a uno YouTuber Sono sintomo di un nuovo inizio Ed è proprio grazie all'arrivo dell'estate E al raggiungimento dei 1000 iscritti qui sopra YouTube Che cercherò in questo periodo di pausa Ovvero in questi 3 mesi Dove non c'è scuola, dove non c'è stress Dove non ci sono compiti Di fare ben udite udite 3 video a settimana Cioè siamo partiti che non faccio un video da ben 5 mesi A fare 3 video a settimana Poco affidabile come cosa Però diciamo che io ci credo nel rispettarla Regà voi consigliatemi qua sotto nei commenti Qualche idea figa da portare nei video Così mi invogliate anche di più a registrare Comunque questo a parte che è un video ringraziamento Ma è anche un video per riorganizzare il mio canale Per tutta questa estate Infatti ascoltate un attimo Perché questo è il piano per tutta l'estate Ovvero per giugno, luglio e agosto Lo tengo tutto il piano scritto qui E vi dico che i video usciranno il martedì Il giovedì e il sabato Allora il martedì Gli argomenti saranno in tema magia Ovvero quindi il martedì ci saranno Giochi di magia Tutorial Reaction alle magie fighe Compilation di giochi di magia Unboxing di magia Reazione Vabbè raga Un casino di roba inerente al mondo magico E il martedì già ce l'abbiamo Perché io tutorial Già ho veramente molti molti giochi Che voglio insegnarvi Veramente molto fighi Poi volevo reagire a dei giochi di magia Che mi manderete voi su Telegram Vi lascio il link in descrizione Ho in mente già da un po' di tempo Di fare questa cosa Dove voi mi mandavate Dei giochi di magia E io li reagivo Proprio in un video E questo è per quanto riguarda Il martedì Mentre per il giovedì Poiché io non volevo soltanto Dedicarmi ai video lunghi Ci mettiamo Di mezzo Uno shorts Uno shorts dove posso portare Qualunque cosa Non c'è per forza Il tema magico Che devo portare Nei video Un gioco di magia Qualunque cosa Qualunque cosa voglio portare Porto Ovviamente i shorts saranno Giustati con la videocamera E non con il telefono Quindi la qualità Sarirà alle still Infatti gli ultimi due shorts Che ho registrato Con la telecamera Sono volati Mi hanno fatto fare Più di 20 iscritti E mi hanno fatto raggiungere Proprio i 1000 iscritti Qui sopra YouTube Quindi martedì e giovedì Ce l'abbiamo E infine regà Manca sabato E voi direte Il sabato Cosa porti Se martedì Magia Giovedì Shorts Video a caso Il sabato ragazzi Porterò Dei vlog Ma non dei daily vlog Normali Dove vi faccio vedere Cosa faccio Durante quella giornata Ma bensì Registrerò Durante tutta la settimana Registrerò Alcune clip Dove faccio delle cose Ad esempio Giochi di magia Ad esempio Gioca a basket Faccio box Cucino qualcosa Prende tutte queste cose Le inserisco tutte In un unico video Io non lo so Penso che uscirà un video Di 8 o 9 minuti 10 minuti Dipende dall'editor Quanto me lo fa uscire Ringraziamo a Checco Il mitico Checco Che ci ha fatto arrivare A 1000 iscritti Un applauso a Checco Nei commenti Che è il nostro editor Grande Checco Numero 1 Quindi il sabato Ho detto Registriamo qualche vlog Dove unisco Tutte le robe E ho fatto durante la settimana In un unico video Non per forza ragazzi Infatti Nei prossimi video Potrò chiedervi Di scrivere nei commenti Delle domande Che poi io risponderò In futuro Tutte in un video Poi ovviamente Ci saranno delle challenge Infatti con l'arrivo Dell'estate Regà Ci rivedremo un'altra volta Ie Checco Io e l'altro mio cugino Ovvero Sasa Dome Purtroppo Ci ha abbandonato Ma non fa niente Non possiamo farci nulla Ha deciso di cambiare strada E non fa niente Cioè Rispettiamola Alla sua decisione Quindi per il sabato Ci saranno tanti Ma tanti contenuti Veramente Veramente Molto fighi Quindi ragazzi Questa è la mia idea iniziale Per questi tre mesi estivi Fatemi sapere Cosa ne pensate Qui sotto Nei commenti E detto questo ragazzi Io continuo un'altra volta A ringraziarvi Di questo traguardo raggiunto Questo è soltanto L'inizio Ricordatevi queste parole Perché Arriveremo ai 10.000 Poi 100.000 E poi il milione Ricordatevi queste parole Quindi se volete supportarmi ragazzi Lasciate un bel pollicione All'insù Iscrivetevi al canale Raga Fondamentale Dobbiamo arrivare ai 2.000 iscritti E mi raccomando Raga Iscrivetevi al canale Telegram Vi lascio qui sotto I link in descrizione Mi raccomando Lì avrete tante news Sopra al canale Dove ci possiamo inviare Giochi di magia Tecniche di cardistry Qualunque cosa Vi viene in mente Mandatela sopra a quel canale Che poi Unirò tutti Quei video E li farò uscire In un unico video Scusatemi Vi sto dicendo sempre La parola video E detto questo ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Noi ci vediamo In un prossimo video Da Sorre è tutto Bella Ciao